buongiorno a tutti a tutte eccoci nuovamente qui con un nuovo video ne avevo postato uno solamente ieri sera però insomma visto questi giorni un po particolari che stiamo vivendo ho voluto fare un altro velocissimo tutorial ma più che altro era per fare una creazione da dedicare a voi ci tengo insomma a farvi un saluto spero che insomma stiate tutti bene e mi raccomando immagino che per alcuni sarà una scocciatura stare a casa non poter uscire non poter vedere gli amici le amiche magari il moroso l'amorosa il ragazzo la ragazza o magari appunto ci sono persone anche che mi seguono che sono dei fuorisede e quindi sono lontani dalla famiglia lontani quindi dagli amici e magari lavorano da casa quindi insomma cerchiamo di tenere tutti quanti duri insieme quando siete un po tristi insomma vi sentite soli ricordatevi che c'è il telefono ci sono le videochiamate quindi cerchiamo insomma di scrivere un messaggio oppure chiamare un amico un'amica e visto che si sta avvicinando il weekend magari insomma mettetevi d'accordo e fate una videochiamata di gruppo magari fate un cin cin a distanza con gli amici e le amiche però mi raccomando cerchiamo sempre di seguire quello che ci viene detto e quindi restiamo a casa magari per le persone che lavorano anche da casa e le persone che magari purtroppo sono a casa e non lavorano non possono arriccharsi a lavorare magari insomma cerchiamo di lato positivo cerchiamo di fare quello che non si ha mai tempo di fare quindi magari leggiamo un libro o magari guardiamo iniziamo a vedere quella serie tv che non avevamo mai avuto modo di vedere non avevamo tempo di vedere magari facciamo le pulizie domestiche da cima a fondo stiriamo i vestiti la pila che si è sempre fatta altissima insomma sulla famosa sedia oppure insomma possiamo anche fare un po' di fai da te e fare seguire qualche mio tutorial quest'oggi vi voglio semplicemente dedicare questa cosina qui che un magnetino da appendere al frigo con la frase andrà tutto bene hashtag andrà tutto bene perché insomma solo uniti e rispettando le regole ce la faremo quindi io resto a casa e andrà tutto bene vi lascio il tutorial un bacione forza riusciremo anche questa volta vincenti un bacione a tutti a tutte un bacione forza riusciremo un bacione a tutti il nostro canale è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti.